Il prompt engineering è una cagata pazzesca, qualcuno lo doveva dire, non è che si può andare avanti così e ovviamente tocca dirlo a me, dopo essermi fatti nemico tutti i venditori di cripto, tutti i venditori di NFT tutti i venditori di metaverso che non esiste, adesso pure i venditori di prompt engineering e che non esiste nessun engineering, non c'è nessun ingegnere, nessuna ingegneria dietro quello è un nome peraltro altisonante per descrivere praticamente nulla si tratta di dire alle macchine, in questo caso dietro del modello di intelligenza artificiale cosa vogliamo, bisogna semplicemente spiegare agli utenti senza vendere nessun corso di prompt engineering di essere molto chiari, ci sono 4-5 regole, è finito, basta, il resto cambia pure nel tempo quindi il tempo che avete finito di fare un corso di prompt engineering è già cambiato tutto non comprate questi corsi, vi prego e soprattutto non si diventa esperti in intelligenza artificiale comprando corsi di prompt engineering cosa che cercano di dirvi i venditori ciao